Buongiorno, benvenuti a tutti a questa terza masterclass del Florence Corea Film Fest. È un appuntamento a cui tenevamo moltissimo, questo incontro. Senza troppi indugi chiamo gli altri relatori dell'incontro. Veronica Croce, la mia collega preziosa del festival. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per essere qui. La professoressa Daniela Broggi dell'Università per Stranieri di Siena, grazie mille. E il professor Luigi Nepi dell'Università di Firenze. Vi prego di accomodarvi. E con grandissimo piacere vi introduco le nostre ospiti di quest'oggi, le registe Im Suri e Julie Jan. E la nostra interprete Ieda, molto preziosa. La nostra salvatrice. Prego. Innanzitutto, veramente è un grandissimo piacere per il festival poter beneficiare della presenza insieme di due autrici. Abbiamo Im Suri, che è una colonna portante proprio della cinematografia coreana, che è quella che unisce il successo di pubblico al successo di critica. Consideravo qualche giorno fa che forse è anche la prima autrice, la prima regista coreana che ha avuto un film che è stato distribuito in Italia, il film La Rit del Forest. E quindi, insomma, è veramente un onore ospitarla. Abbiamo spesso ospitato i suoi film qua, sia in retrospettiva che quando sono usciti. E proprio questa sera, tra l'altro, presenteremo il suo ultimo film, The Point Man. Poi abbiamo Julie Jan, che è stata, diciamo, forse un po' una scoperta anche del festival, in realtà no. Però avevamo ospitato qua nel 2015 il suo primo film che ha avuto anche molto successo, Girl at My Door. Era il suo esordio all'epoca, appunto, venne a introdurlo, a proiettarlo qua a Firenze, eravamo all'Odeon. Ed è tornata quest'anno con un film meraviglioso che invece sarà domani e che ci sarà presentato proprio dalle sue parole, che è Next So He. Bene, parto io con una domanda e poi lascio spazio ai miei colleghi relatori. Volevo proprio sapere come entrambe hanno iniziato a lavorare in questa industria. Volevo proprio sapere come una scoperta. La scoperta di film in Tornien, deludio, delitto, delitto, degli imparati, di cui ciò sono stati a lavorare in questo film. La scoperta di film, doveva rappresentare in questo film, perché la scoperta di Quelle è stata molto attrafter lo spazio. Ciò che ora sono trovato una scoperta di film. E che poi sono in cui statistiche di film, delle film e di film. E che hanno trovato una scoperta di film. Allora, ho iniziato a frequentare l'università all'inizio degli anni Ottanta e all'epoca in realtà era molto difficile poter guardare, poter vedere film che non fossero coreani. All'epoca l'unica cosa che potevo vedere era attraverso l'istituto culturale della Germania, era vedere film tedeschi oppure film francesi grazie all'istituto culturale francese. All'epoca poi in Corea era molto più facile vedere i film di Hong Kong, quindi guardando film francesi e quelli di Hong Kong ho visto che comunque c'era una differenza. Il focus era molto più incentrato sull'autore piuttosto e quindi da lì, ammirando, osservando queste differenze e questi film ho cominciato a ingrandire un po', a far crescere il mio sogno e sono arrivata fino a qui. cioè Oggi sono in un'unice università. E poi, dopo, voglio studiare più inizialmente. E poi, dovevo studiare un'unica università in un'unica università. Sono in un'unica università nel 20 anni. E poi, quando studiare, non studiare un'unica università. E poi, dovevo studiare un'unica università per il film. e come stessi e faremo un lavoro. Ma è stata molto molto. E' stata una persona che era una nuova. Non ho mai avuto l'opportunità. E' stato senza capire che non mi ha fatto una scena di scena. E' stato fatto un scena di scena di scena di scena. e abbiamo fatto una scena di scena. E' stato fatto un scena di scena di scena. Quando ero bambina mio padre aveva questa passione verso i film e aveva tante videocassette da guardare, quindi succedeva che quando mio padre la mattina usciva per andare a lavorare, io durante le vacanze guardavo anche io le stesse videocassette che mio padre aveva delle pile proprio. Poi da lì sono riuscita a entrare in un'università in formazione cinema, ho continuato a studiare e poi ho fatto anche la formazione, ho fatto un percorso master sempre di cinema. E quindi dai 21 ai 29 anni più o meno quella fascia dieta lì l'ho passata solamente a studiare cinema. Poi purtroppo non è che succede che quando ci si laurea si diventa subito registi, purtroppo non è così, quindi mi sono cimentata subito, mi sono proposta per lavorare, mi sono applicata per lavorare sul set come staff, però lì purtroppo ho ricevuto molte porte in faccia perché avevo troppi anni, ero troppo anziana, ero una donna e quindi ci sono stati più no più che altro. E grazie a questo in realtà che ho realizzato, ok se voglio fare qualcosa l'unica maniera è scrivere il mio testo, dirigerlo io, incontrare una produzione che me lo possa produrre e sì questa era l'unica maniera. Prego la Veronica e dopo la professoressa Brogi per Cavalleria. Le due registe hanno chiaramente due approcci da studenti diverse, noi sappiamo però che la regista Im è stata a Parigi a studiare e quindi quanto la Francia, quindi l'Europa, ha aiutato anche un po' lei a emanciparsi come regista? E poi ti faccio la domanda anche per l'attore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Nell'88 come avevo già accennato prima purtroppo non era molto semplice poter approcciare a film d'autore in Corea. Quindi se non è un film europeo che mi ha fatto, invece, in realtà, come si vede diverse film, in realtà, in realtà, in realtà, in realtà ero venuta in Francia proprio per approcciarmi al cinema francese, ma in realtà, una volta arrivata in Francia, mi sono ritrovata a cercare più film giapponesi, cinesi, sicuramente anche italiani, ma anche di altri paesi, di terzi paesi. Quindi, in realtà, dire che il film europeo, il cinema europeo, mi abbia influenzato, mi abbia aiutato in qualche maniera, è stata la diversità di film che ho approcciato e che mi hanno aiutato e mi hanno fatto ritrovare un po' cosa significa, cosa è il cinema orientale e asiatico. Invece per la regista Zhang vorrei chiederle quanto la figura di registe appunto più grandi che hanno avuto successo prima di loro può averle aiutate e spronate a voler continuare questo sogno di regia? Grazie. 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 A differenza della regista Im Sun Le, quando ho studiato io cinema, era possibile un approccio molto più vasto e diverso per vedere davvero tanti tipi di film. e alcuni di questi erano per l'appunto i film creati dalla regista Im Sun Le. E proprio più o meno nel periodo in cui io sono entrata all'università venne nelle sale proiettato il Waikiki Brothers proprio della regista Im Sun Le. e guardando quel film mi sono detta oddio, quindi anche in Corea è possibile realizzare un film del genere e da lì ho cominciato un po' a far crescere un po' questo orgoglio che sentivo che provavo verso il nostro cinema. Tra l'altro il film Waikiki Brothers è in programmazione qua al festival, non ricordo quando, però domani, quindi insomma lo potete naturalmente vedere. prego la dottoressa Brogi. Buongiorno. Dunque Im Sui e Julie Jang sono due riferimenti del cinema coreano d'autrice, quindi grazie di essere qui e grazie di avermi invitato ad essere su questo palco accanto a voi. e vorrei chiedere a entrambe di aiutarci a riflettere un po', a mettere un po' a fuoco la questione che di solito nel cinema e nelle arti visuali si intende e si chiama come female gaze, sguardo d'autrice. cioè il fatto che voi siate due autrici, quanto e come conta, se conta, rispetto al modo in cui guardate e fate guardare con i vostri film il mondo? Puoi rifarmi la domanda per favore? Sì, il fatto che voi siate autrici, le donne, quanto conta, se conta, nel modo in cui poi scegliete una storia invece di un'altra, organizzate la storia, guardate il mondo, ce lo fate guardare? Grazie. Grazie. Intende dal punto di vista della produzione oppure proprio al livello della creazione della sceneggiatura? È giusto, intendo tutti e due i livelli. Visto che è difficile da rispondere passo la parola alla regista Chong. Come avevo accennato prima, io in realtà avevo approcciato il mondo del cinema anche proponendomi come staff, però mi sono stati detti tanti no proprio per il fatto che sono donna e questo è stato un po' all'inizio per ciò che mi riguarda la carriera registrica. Allora, già 20 anni... 20 anni? 2023, quindi... 15 anni. Allora, la situazione è molto più migliore. Allora, io ho creato il primo film, poi poi ho creato il secondo film, quindi penso che sia più migliore. che sia più migliore. Allora, sto parlando di quasi 15 anni fa, e in questi 15 anni devo dire che tante situazioni sono migliore. E dal primo film fino al secondo film che ho realizzato, affermo e confermo che le situazioni siano migliore. però... però... che mi sono sentito, che il ragazzo di ragazzo di ragazzo, che i ragazzo di ragazzo, che i ragazzo di ragazzo, che non è ancora più importante. In scopri di ragazzo, i ragazzo di ragazzo, più di più. Dopodiché l'ambiente ha avuto più di più di più di più, ma non è ancora un po' di più. Ancora non mi sembra più di più di più di più. Una riflessione che faccio in questo periodo, un pensiero è che effettivamente nell'ambiente cinematografico coreano, un film realizzato da una regista donna con una protagonista, un personaggio femminile che attivamente fa proseguire il film, purtroppo questi tipi di film non sono proprio il mainstream dell'ambiente cinematografico coreano. Eppure se si va a vedere l'ambiente scolastico all'università dove si fa la formazione di cinema, le studentesse femmine sono molto più in maggioranza, è una maggioranza considerevole e quindi si prospetterebbe che abbiano molte più possibilità, probabilità di avere delle occasioni, però vedo che il cinema in realtà non sta funzionando in questa maniera. Mi vorrei allacciare a questo, quindi probabilmente se non nel cinema e nella tv hanno più possibilità di lavorare, quindi c'è più un blocco a livello cinematografico rispetto all'approccio televisivo? Sì, effettivamente è una cosa interessante da osservare, perché nei K-drama vedo che il film è molto più difficile, ma non è molto più difficile, ma non è molto più difficile. E ci sono tante protagoniste donne, vero? Mentre vedo che queste produzioni hanno anche un grande successo, sono in mainstream. Eppure nell'ambiente cinematografico, ripeto, questa cosa non succede. Sì. 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 credo che una cosa che può andare a intaccare, rispondendo alla domanda di prima, è che il pubblico, più o meno, 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 più o meno. Per la maggior parte, credo che voglia, desideri dei contenuti, dei film bellici, per dire che siano di thriller, che possano essere comunque stimolanti in un altro senso. Mentre credo che invece le registe donne abbiano un'altra tendenza a livello di contenuti. Sì. 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 tanti come director in me, director Zhang e soprattutto di farmi incontrare director Zhang che io come membro di giuria quando fu presentato a Girl at My Door premiai qui al Florence Festival ormai 6-7 anni fa 8 anni fa il tempo passa quando ci si diverte quindi va benissimo allora io volevo fare proprio una domanda tipica da masterclass ovvero il vostro metodo nel costruire e nel pensare e nel realizzare un film cioè come scegliete le storie come lavorate sulle sceneggiature come lavorate anche con gli attori e quindi poi alla fine come mettete in scena e i vostri film e poi alla fine e poi alla fine come si può come si riuscita con gli attori e poi alla fine come si riuscita con gli attori Ho scritto io la sceneggiatura e l'ho diretto io. Quindi credo che all'inizio ci sia la sceneggiatura. E nel fulcro, nel centro del come vado a realizzare i miei film, non sia proprio che tipo di storia scelgo, ma che tipo di emozioni possono provare questi personaggi? Nel primo film, tutti i due protagonisti hanno sentito il solito. E ci sono due protagonisti. E quindi nel primo film ci sono i due protagonisti. E sono partita dal punto che questi due protagonisti possono sentirsi soli e solitari. E quindi, in questo caso, come si tratta di un po' di solito più sottile, come si tratta di un po' di solito più sottile, come si tratta di un po' di solito? E partendo da lì ho cercato di capire che tipo di situazione, che tipo di storia possa far risultare ancora di più questa solitudine. E anche con gli attori, quindi dopo aver sufficientemente parlato prima, si parla di come riuscire a far risultare ancora meglio l'emozione della sceneggiatura. E anche con lo staff alla fine cerchiamo sempre di capire come far risultare meglio l'emozione centrale, principale di questa scena. E certamente realizziamo un contenuto, una produzione insieme, quindi io che dirigo gli attori, e lo staff tutti insieme, però finché non incontriamo il pubblico siamo sempre un pochino ansiosi perché non riusciamo a capire bene se quello che volevamo trasmettere, l'emozione che volevamo trasmettere sia effettivamente trasmessa. Ma ora è stato un pochino ansiosi, ma ora è stato un pochino ansiosi, ma ora è stato un pochino ansiosi. E allora è stato molto grande. Però nonostante ciò realizziamo i film e fortunatamente arrivano anche fino a voi, che è parecchio lontano. E nonostante ciò riesco comunque a capire che ci sia empatia in tutto ciò e vedere con i miei occhi che c'è empatia, che veniamo compresi, mi dà davvero tanta soddisfazione. Innanzitutto volevo salutare il direttore Riccardo Gelli che ci ha raggiunti, che naturalmente ha reso possibile questo incontro così prezioso. C'è qualche domanda intanto? Scusi, mi scusi, mi scusi. Scusi, mi scusi, mi scusi, mi scusi. Io sono comunque... Il fatto che inizimo lavorare, che hanno creato un giro l'occhiature mi piaceviste, che nel nostro lavoro e l'occhi lavorazioni sui che non mi sembrava, di essere moltoPreviattoli che credevano. Perché come nella città diện, i stessi in 1080p che sono stati molti suoi personaggi, dove�li lettera di gioiemba e, e i ragazzi sono molto ricordati, ma anche se ci sono, se non 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 ci sono, ci sono cose che sono molto semplici. Sì, abbiamo appena ascoltato che la mia collega, la regista Chong, svolge il suo lavoro focalizzandosi sulle emozioni della scena. Io invece prediligo molto l'equilibrio tra gli attori, prediligo molto l'equilibrio perché soprattutto nel cinema coreano purtroppo si sacrificano molto gli attori che non sono quelli principali, quelli che sono secondari, magari hanno una battuta e basta e quindi vengono molto sacrificati. Sì. 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 da dove si inizia, come meglio iniziare. grazie a tutti. Mi è abbastanza difficile dirlo perché immagino che tra la Corea e l'Italia ci possano essere delle differenze a livello di approccio, però ormai stiamo vivendo in un ambiente globale e posso dire che ormai siamo giunti in un'era in cui basta uno smartphone per creare qualcosa. Quindi il mio consiglio è quello di cominciare comunque con dei corti, con qualsiasi cosa che possa essere di un argomento che ti piace, riprendere cose che ti piacciono e da lì provare a distribuirle, a mandarle in tutti i posti che puoi e poi ricevere anche a tua volta dei commenti. Questo potrebbe essere davvero di grande aiuto e credo che sia davvero la maniera più efficiente e più efficace. Grazie. 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 Grazie a me. collaborando con anche altri colleghi un po' più giovani di me ho veramente realizzato che si tratta di una generazione che è molto più vicina all'audiovisivo al video perché tipo già la mia generazione se la mia generazione era più facilitata, era più facile a esprimersi con la scrittura vedo che invece queste generazioni più giovani sono molto più propense all'audiovisivo e quindi davvero come ripeto e come ha già ripetuto come ha già detto la nostra regista Insullè, credo che si possa semplicemente partire da contenuti piccoli e corti per poi cercare di capire qual è il tuo e sì questo è sicuramente un inizio la signorina con il vestito con la maglia bianca Nel frattempo se qualcuno vuole fare una domanda ne abbiamo insomma una lì ve la segnalo intanto io posso poi parlare anche in italiano per tutti quanti io ho capito come la domanda io ho capito io ho capito ... ma io sono una ragazza che scrive, scrive per cortometraggi e scrivo cortometraggi e come ha detto prima la regista Chong Juri la regista si concentra molto sul, si focalizza sulle emozioni dei personaggi in questo caso nell'esempio che aveva detto prima alla solitudine e io invece mi accorgo che quando scrivo non riesco mai a finire quello che scrivo, cerco io solitamente di scrivere su cose sociali, su argomenti sociali e su quello che mi succede intorno ma stranamente non riesco mai a finirlo la mia domanda è quando entrambe voi due sto chiedendo quando scrivete partendo dall'idea fino alla conclusione dello scritto la vostra idea nel mentre cambia oppure rimane la stessa che avevate progettato all'inizio? non so bene dire in futuro come sarà però posso dire per certo che finora la mia maniera di scrivere era io scrivo già con l'idea chiara con già la conclusione definita grazie scusate che non avevo bene la domanda chiara in testa e sono molto emozionata scusatemi sì è detto semplicemente in maniera semplice conclusione si potrebbe chiamare scopo in qualche maniera obiettivo perché per arrivare all'obiettivo sicuramente anche mentre scrivo tante cose cambiano e subiscono cambiamenti buongiorno io sono una studentessa di regia e purtroppo anche qui in Italia è molto difficile per noi donne lavorare in questo campo quindi le volevo chiedere ricollegandomi all'argomento di cui parlavamo prima cosa le ha dato vi ha dato la forza per continuare a seguire questa carriera nonostante appunto tutte le difficoltà ciò che aveva raggiù è stata la giocatori di cui si è molto da andare, è successo? 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 Io ho visto che è stato un giro, ma il ragazzo del giro, o io ho già chiamato il film in senso che facciamo a film, però quando ho studiato, non avevo la scoperta. Quindi, mi chiedo, Come aveva detto la mia collega Chong Juri, aveva detto che ormai nella generazione attuale ci sono tante persone, tante studentesse che desiderano intraprendere questa carriera. Invece quando studiavo io, purtroppo, prima di me non c'erano davvero registe donne e sinceramente ho avuto tanti dubbi e perplessità riguardo a se riuscirò a diventare una regista donna io. Il film in Corea è iniziato nel 1919. La prima regista donna ha esordito nel 1955, mentre il mio esordio, il mio debutto è stato nel 1996. Prima di me ci sono state solo sei registe donne. Quindi, per la prima regista non c'erano, non c'erano, non c'erano. ho innanzitato molto. Per chi ho avuto un po' di un'occhiata che avevo un paese per il film, è un po' di più credito. Io mi amare un po' di più, e il che mi piace, e il che mi piace. E un po' di più credito. Questo è un po' di più credito che mi ha detenuto. Dal mio esordio fino a dieci anni a venire non ci sono state più, non ci sono state tante registe donne purtroppo, però la motivazione, il motivo per cui sono riuscita ad andare avanti era il fatto che ho creduto in me stessa, ho creduto nell'amore che provavo nei film, ho creduto nelle cose in cui dicevo e credo che sia stato questo il motivo principale che mi ha spinto ad andare avanti. Se adesso sta studiando il cinema e se davvero lo ama tanto, io davvero consiglio di non perdere mai la stima verso se stesso e per il lavoro che sta facendo e di continuare ad avere le speranze e il coraggio e sì, queste cose. Fiducia, scusate non mi veniva in mente la parola, fiducia. Benvenuti. Salve. Prego, sì, certo. A presto, sì. A presto, se ci stiamo in un'ottore. Anche le conto di un'ottore. Orse è stato molto felice, è una accettazione, un'ottore. Mi sono affidanti, un'ottore. Ho provato di un'ottore. E ho, siamo stati di un'ottore. E ho passato una prossima. Mi ha avuto comunque, è un'ottore. E un'ottore. È molto più facile. Ma poi, è un'ottore. Ho provato anche, ma è un'ottore. Se si rende il film, se si rende il film, siccome si rende il film, si rende il film conoscere e si rende la storia. E' un'esplorazione che mi ha fatto, e mi ha fatto un'esplorazione. E' un'esplorazione che si rende il film. dalla generazione precedente guardando film creati da registre donne, quindi mi ritengo di aver avuto un inizio più semplice rispetto alla mia collega Insullè. Però posso dire che nel mio caso, realizzando film e mettendocela tutta, impegnandomi al massimo, se si procede così sicuramente qualcuno nel mondo, qualcuno da qualche parte lo vedrà e gli sarà impresso nella mente, proverà empatia, proverà compassione, ci sarà delle connessioni, una connessione con questo. Quindi nel mio caso ha aiutato davvero ad avere ancora più fiducia in quello che facevo e nel lavoro che facevo, quindi io davvero consiglio vivamente di aggiungere anche questa cosa, questo tipo di fiducia, la fiducia che qualcuno ti ascolterà. Rinnovo il mio benvenuto, io non sono una professorista, sono soltanto una persona che gli piace vedere i film, soprattutto in questo genere, i film coreani. Ascoltando l'intervista che aveva fatto il professore e avete parlato di sceneggiature e di come voi costruite poi il film in base alla sceneggiatura, mi è sorta una domanda che era tanto che avevo un testa proprio come dilettante. Quando scegliete o scrivete una sceneggiatura, vuoi che mi fermi? Il pensiero del personaggio lo visualizzate riferendovi magari come caratteristiche, come persona, la propria descrizione del personaggio fisico, pensando ad un attore preferito, cioè scegliendo già in mente un attore, oppure è la programmazione che vi suggerisce o vi propone, saranno gli attori stessi che scelgano il ruolo e quindi è un lavoro di adattamento al personaggio. Io penso che sia diverso per qualsiasi un'opera. Per esempio il mio primo film l'ho realizzato partendo tutto dalla mia testa, non ci sono stati modelli di riferimento, non c'è stato nulla, ho scritto partendo semplicemente dalla mia immaginazione. Invece nel mio secondo film ho preso in considerazione quella che è la persona che volevo introdurre, cioè la protagonista anche del primo film e quindi avendo presente la persona che è lei sono andata di conseguenza a rifinire il personaggio. Non so bene cosa succederà nel terzo. In questo caso se il nostro pubblico non lo sa, la persona, il personaggio, l'attrice di cui si parla è Betuna che è famosa anche all'estero, quindi probabilmente avete sicuramente presente il suo viso. Io nella mia carriera ho realizzato nove lungometraggi e soprattutto i primi due li ho scritti io le sceneggiature. Però stranamente quando scrivo io la sceneggiatura non ottiene mai il successo che desidero, quindi il budget è sempre molto limitato e sinceramente andare a scrivere un personaggio pensando a un attore che è una cosa abbastanza impossibile da fare. E anche questa cosa abbastanza impossibile. E invece se parliamo di un film ad alto budget, quello che è stato The Point Man, ci sono degli sceneggiatori professionisti che si occupano della storia e in quel caso io non so sinceramente se nella loro scrittura loro prendono in considerazione già degli attori. Però sicuramente quando andiamo a precedere ai casting degli attori bisogna che siano degli attori che possano avere un riscontro da parte dell'investimento e degli attori a cui piaccia lo scritto, quindi sono due elementi che vanno soddisfatti per avere un attore, per reclutare un attore. Scusatemi, io chiedo anche a qualcuno dello staff magari di aggiornarci su quanto tempo abbiamo così da programmare altri interventi. Grazie. Prego, prego, il microfono. Guarda dietro di te. Soprattutto vorrei ringraziare per questo incontro bellissimo e poi vorrei ringraziare anche all'interprete che ha fatto veramente un lavoro bellissimo. Perché anch'io faccio ogni tanto l'interprete, quindi so quanto è difficile e poi dopo oggi penso proprio di smettermi perché non avrei mai compiuto un lavoro così fantastico. È fantastico. Volevo seguire proprio questo filo che riguarda ai addori perché io sono veramente un fan del Pei Tuna. Non so, ho pronunciato bene? Benissimo, Pei Tuna. Pei Tuna. Quindi non vorrei essere maleducata ma vorrei proporre una domanda per il leggista Julie Jung. Qual è, secondo lei, il carattere più importante di Pei Tuna che proprio ha dato ai suoi film? E poi, solo per la mia curiosità, com'era l'esperienza di collaborare con lei? Grazie. 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 Parlando del primo film che ho realizzato insieme a lei, io ero una regista che stava esordendo principiante che non conosceva nessuno. mentre Pei Tuna era un'attrice già riconosciuta a livello mondiale, quindi io non mi sarei mai immaginata sinceramente di poter collaborare con una figura del genere. Però lavorando insieme ho notato, ho osservato che l'attrice Pei Tuna aveva davvero uno sguardo molto attento, era molto precisa e capiva al volo la sceneggiatura, era molto precisa. E questo è quello che ha detto. che si tratta di controllo davvero abbastanza controllo, e poi ci sono dei sensi che si tratta di soltanto di soltanto. dà la libertà e infatti lavorando insieme a lei ho visto che quando lei recita sempre avendo un grande controllo di se stessa riesce comunque a raggiungere dei punti molto che vengono dall'intuito, molto distinto ecco lo terrò sicuramente in considerazione ci sono altre domande se no io chiederei proprio degli interventi flash ai nostri due ospiti cioè a professoressa Brogi e al professor Nepi ma dunque per esempio a proposito dei film che stiamo per vedere farei una domanda rapida entrambe per quel che riguarda Point Man sono senza spoilerare ma sono sono rimasta colpita dal fatto che un'autrice si girasse un film di guerra di battaglie un film così epico che lo dico per far capire a chi ci ascolta ancora non ha visto il film può ricordare a volte Katrin Bigeloff è difficile per esempio immaginarsi una regista italiana che giri un film del genere e quindi questa 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 storia insomma mi ha mi ha colpito lei diceva che la sceneggiatura è stata scritta da altri però poi è chiaro che lei l'ha riempita e in particolare ripeto senza anticipare o sciupare nulla mi è piaciuto molto come ha lavorato sulla relazione fra i due protagonisti e questo discorso della relazione in fondo riguarda anche il film Sohi è molto bello vederla lavorare sia come regista che come interprete su una storia che mette al centro proprio una relazione in cui c'è una donna che in qualche modo ridà vita e non aggiungo altro a un'altra donna grazie grazie è solo un commento era una domanda no era solo un apprezzamento vero grazie no io volevo andare invece a chiedere qualcosa sempre di questi due film sono due film davvero molto belli due film diversissimi uno dall'altro e sono raccomando stasera e domani sera di essere qua perché sono davvero meritano la vostra attenzione e appunto si tratta di dei film diversi proprio anche non solo strutturalmente ma anche come tipologia di genere e anche come interpretazioni e anche come attori e attrici coinvolte next next year è un film estremamente femminile dove tutte le protagoniste sono donne addirittura senza anticipare nulla sono due film in uno che vedrete come appunto è strutturato il film una cosa che ho notato su questo film c'era Roberto Rossellini ora non voglio scomodare i santi però Roberto Rossellini diceva che la parte più importante in un film per lui non è quello che succede ma è l'attesa di quello che potrà succedere o potrà anche non succedere perché l'importante è creare un'attesa ecco mi sembra che la regista lavori molto sull'attesa sui momenti in cui lo spettatore è solo con il personaggio che si sposta che pensa e quindi costringe anche lo spettatore a pensare a empatizzare con il personaggio mentre a director volevo chiedere appunto come è stato girare un film così all'opposto d'azione adrenalinico anche un po' testosteronico perché sono tutti maschi quelli che intervengono e quindi mi immagino anche avere la responsabilità di una troupe così particolare in un film così anche impegnativo da un punto di vista produttivo oltre che in situazioni particolarmente difficili perché avete girato in un deserto per cui insomma non deve essere stato come è stato affrontare un film d'azione così forte così incentrato proprio su queste dinamiche narrative per esempio per esempio che H&B è un film dove è stato investito tanto tanto budget e sicuramente non è un film di divertimento di intrattenimento è un film con un argomento molto molto pesante però avevo comunque questa responsabilità di dover dare comunque restituire al pubblico qualcosa comunque a livello industriale tipo per esempio l'attore Hyun Bin il pubblico ha delle certe aspettative riguardo alle scene d'azione che potrebbe realizzare questo attore quindi era anche molto importante soddisfare quella parte lì allora il set le riprese sono state fatte nella Giordania e siccome era appena iniziata la pandemia non era stato affatto facile poter entrare nel paese per procedere con le riprese però la figura che ci ha permesso autorizzato a entrare e procedere con le riprese era la regina della Giordania e siccome questa signora questa figura era una fan di Hyun Bin è stato possibile ottenere l'autorizzazione per poter procedere alle riprese l'autorizzazione Grazie a tutti! E essendo comunque un paese con una religione musulmana abbiamo ricevuto tante educazioni prima di addentrarci nell'ambiente e poi anche l'ambiente atmosferico in sé non erano condizioni assolutamente facili perché essendo per l'appunto un deserto era davvero molto difficile. E per esempio il coordinatore o un relatore, una persona relativa all'organizzazione della Giordania ci aveva avvisato per esempio se in una scena del deserto ci vogliono 100 persone per fare una scena di gruppo extra allora è meglio se ne chiamate 150 perché 50 sicuramente svengono. Però quello che è successo in realtà è che quelli che sono svenuti non eravamo noi coreani ma erano quelli della Giordania. Il caldo estivo coreano li ha temprati. Grazie a tutti. Che possono sembrare passaggio. Hitchcock diceva che il cinema è come la vita senza momenti noiosi. Invece Rossellini all'opposto diceva che appunto c'era questa voglia di creare un'attesa e di seguire un personaggio attraverso quello che possono essere le sue varie vicissitudini. Se appunto questa parte dell'attesa è stata un centro di come ha costruito i due personaggi principali del film. Grazie a tutti. no, 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 no. Sinceramente non riesco bene a capire in che senso attesa, sinceramente, se può... Semplicemente vediamo spesso e volentieri i personaggi che si spostano e che quindi sembra non succedere niente ma si crea in quel momento l'empatia tra lo spettatore e il personaggio. Sì, è stato un po' di rispettatore. Sì, è stato un po' di rispettatore di Roberto Rossellini. Lei mi ha parlato di attesa ma io in realtà la definirei di più distanza. In realtà il mio focus non era proprio cercare di fare in modo che il pubblico compatisse. se possa sentire le stesse emozioni della scena ma era far sì che il pubblico possa andare a pensare, a riflettere riguardo a quello che ha visto in un secondo momento. di fare in un secondo momento è che se non si è calzato. Se non si è calzato, quindi se non si è calzato, non si è calzato. Se non si esce, non si è calzato. quindi va bene la distanza, va bene anche l'attesa ma ho cercato comunque di non far calare la tensione e di comunque mantenere la tensione intatta L'attesa è un modo per tenere alta la tensione Sì Perfetto, allora io prima di ringraziare davvero con il cuore i nostri ospiti sia italiani che coreani e il direttore Gelli vi rimando, vi ricordo l'appuntamento di stasera con il direttore Him parleremo di The Point Man e lo vedremo naturalmente domani sera con il direttore Gian invece parleremo e vedremo Next Su He Io ringrazio Veronica, ringrazio la professoressa Daniela Broggi il professor Nepi alla mia destra e le nostre ospiti graditissime con cui ci rivediamo poi stasera direttore Him e direttore Gian e tantissimo la nostra interprete Ieda Kim che è bravissima Grazie, direttore prego Io ringrazio il pubblico appunto per questi incontri che facciamo da quest'anno però un po' più intensi con i protagonisti con i protagonisti e i registi dei film che presentiamo e infatti vorremmo anche il prossimo anno migliorare ancora di più e appunto avere più incontri e più ospiti anche allora ora facciamo una foto tutti insieme ci alziamo e facciamo Grazie Grazie Grazie